Ok, ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo gameplay di Necrapsaria Dove, se tutto va bene, non solo ci sarà il gameplay, ma ben si, che sarà utile come vuol, quando è il caso in cui voi non riuscite a farlo Anche se devo dire che il 2 è molto facile Ma alla fine video poi voi troverete anche delle possibili spiegazioni che ho elaborato io Basandomi sempre su quello che abbiamo visto finora, senza spoilerare troppo quello che verrà qui avanti E andiamo su play Se vi ricordate nello scorso episodio, no, andatevi a vedere lo scorso episodio così non serve neanche a noi quelli che l'hanno già visto Spiegandovelo Quindi, ciao Johnny Boy Ho bisogno di una cosa dalla tua memoria, dai tuoi ricordi Non devi aver paura, non farà male Tutto fatto Non è stato doloroso, vero? Buongiorno, bene bene Johnny Boy È tempo di tornare a casa Non chiedetemi che sia ragazze che per ora è venuto fuori solo adesso Ok, è indovinato un po', dovremo andare in giro e tornare a casa Quindi, clicchiamo qua Chiave, prendiamo la chiave Tu chissà e non si sa E qua ci dice Nutri i gatti Ciò non è un titolo Cioè, non è scritto a casa Siccome la maggior parte dell'episodio si baserà principalmente sul nutrire i gatti Anche se sarà in modo abbastanza strano Non proprio normale Ok, quindi Tante cose dovevi vedere Andiamo qui dentro E ci abbiamo un uccello Che abbiamo potuto prendere Non me lo ricordavo E qui Nintato di Ah, ok, ok Nintato di importante Andiamo avanti Stranissime cose Con tracce di strana sangue Molto sospettose Vediamo che c'è di qua Prima Ha un ascensore Che giustamente Noi mi ricordo Anche io Non lo so C'è scritto qualcosa sulla destra Che non so Non riesco a Non riesco a leggere ragazzi Ma voi potete mettere in pausa il video E quindi vederlo Torniamo indietro Mi sembrava russo a me Non mi sembrava Ningua normale Ma non ho visto niente Vabbè Andiamo avanti Vediamo qua invece che c'è Un poster Con scritto Uccello Più Verme Giustamente Infatti gli uccelli Vangono i vermi Quindi Nulla di sbagliato E qui ci fanno vedere Avete capito Uccello Più verme Useremo probabilmente Un verme come isca Per poter catturare Un uccello Questo qui non c'è da niente Andiamo avanti Ok Si comincia Con il Di questi Torniamo indietro Ok Si comincia col De Geio ragazzi Ok Uccello Giustamente non possiamo fare niente Uccello Oh Signor verme Vediamo qua chi c'è Ciao signor verme Venga con noi Ok Qua ci vado dopo Un attimo Ok Ok se ho ben capito Ci mettiamo il vero Uccello Ah Lezzo Non si lascia prendere Vi consiglio molto Di guardare i dettagli Ragazzi Perché potrebbero Eserci dettagli Molto importanti Dallo scopo della trama Ok Abbiamo preso una nuvola E Qui dietro C'è un tipo Che piace Molto strano Questa è una specie TV 3D Quadro Chissà cos'è Ah qua ho già capito Eh Già Eh già E come ricompensa Ci prendiamo questa corda Che ho già capito Cosa serve Cioè Potrete tutti quanti Aver già capito Cosa serve Torniamo indietro Senza parlare troppo Dal foglio Che abbiamo visto prima Cioè Con questa corda Reghiamo l'uccello E ce lo prendiamo Madonna mia Un episodio Di doppi sensi Ragazzi Io voglio Controllare per di qua E ci abbiamo una porta Eh una porta Una cassa E la chiave E una testa Se la un game player È molto veloce Ragazzi Ma è molto facile È un carretto Tipo quello dei bambini E qua avanti Abbiamo Ah Scanalizza occhi E qui però non ha occhi E non si può entrare Giustamente Qui dice Acqua No No Non si può fare niente Intanto Non si può fare niente Andiamo avanti Ok Ah ok 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 È stato semplice È stato semplice Ok Mi aspettavo per fare Qualcos'altro Torniamo di qua Magari qui devo metterci Questa testa Ah Più acqua E Geniali Di te ragazzi Ed è cresciuto Completamente Ci ha dato Un occhio Grazie mille Amico mio Ok E fin di qua Avremmo dovuto Aver fatto tutto Io dico ragazzi Aspettate Inquietante ragazzi Date occhio Date molta attenzione I dettagli Io dico Quindi Di qua Torniamo indietro Un secondo Ragazzi Guarda qui dietro Ci sono queste Cose enormi Che ricordano Mostri giganti Che Vorrei Esplorare un po' più a fondo Qui se magari Mi sono dimenticato qualcosa Che Eh infatti Ah Ah avete capito Voi Quanto pesa 10 chili Così non lo si prende Ma col carretto Eh col carretto Si che lo si prende Ok Qui a sinistra invece c'è Eh Un coso che pesa 10 chili Eccolo qua A posto No 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 Torniamo indietro E qui che c'è invece Non mi piace la pioggia Povoletto lui Che non si sposta neanche Ok Torniamo indietro Andiamo qui dentro E Così freddo Non posso farci niente per te Mi dispiace Ti aiuterò dopo Un attimo ragazzi Che Ok No niente Dove vedrete dopo ragazzi Sto Sto cercando di rendervi possibile Cioè Vi dirò tutto dopo Io spero che voi capiate Dove Dove andare Ah ok Sì sì Per di qua Giusto Nope Ci dovrebbe essere stato qualcosa qua prima Ma non ricordo Noi Andiamo qui dentro Eh gli scanner Ci abbiamo questo qua giustamente E ci ha aperto la porta E ci abbiamo un gatto enorme Spaventoso Eh che si dice proprio Nutrimi Noi abbiamo nutrito E che una bellissima animazione Inesistente Se ne è andato La c'è andoci passare Qui dentro abbiamo Una bel Ombrello E una scatola Perché puoi raccogliere L'ombrello In una scatola Sei razzista Contro le scatole Cose stranissime qua ragazzi Vabbè Ci abbiamo Un inventario vuoto Soltanto l'ombrello Che poi qua Nel L'uno e il due È ancora molto semplice Perché nell'inventario Cioè Non ti rimane mai pieno E purtroppo Quindi più o meno Sai cosa devi fare Poi le cose Cambieranno moltissimo Grazie mille Ci ha dato Dei fiammiferi Bene No Ho sbagliato Porta Un attimo Se io dovessi Di cliccare Su questo tipo qua Che ci dice Ah ok Non ci dice niente Se avevo ci dicesse Tipo grazie O robe varie E Con te so che fare Fiammiferi Ecco qua Ora Stai meglio No niente Non ci possiamo fare niente Che è un uomo fornace Sto qui ragazzi Però anche poi Se possiamo andare Per di qua E quindi Qui era chiuso Prima Perché era che ho bloccato Il ghiaccio Non mi ricordo Vabbè E ci abbiamo questa Signora strana Che indica di Madonna La mia sanità Mentale Comincia a diminuire E ha perso Questo Madonna Muscerini E ha perso Questo braccio Ci aveva un vero Un attimo Indicato qui Con questo Pesce Che trapassa Questa figura Qui Molto strano Comunque sia Ora Possiamo passare D'aria Ragazzi Nope Ok Nope Ok E eccoci Tornati E qui Possiamo giustamente Usare il braccio Ok E siamo dentro L'escensore Subito Trasportati Magicamente Abbiamo perso Un piede di porco Ragazzi Così To Tieni i piedi di porco Ne avrai bisogno Più avanti E siamo Al laboratorio Ma si torna dentro Premiamo il pulsante Ed esco Allora Siamo sempre qui Ok Strane figure Ok Abbiamo preso Una mosca Che cazzo Sei Ter Fai paura Questa colla Che è materiale collante Che esce Dal soffitto Ah Sangue E Ah Di qua Non mi ricordavo Se potessi andare Ah Uccelli Dammi l'uccello Metti dentro La monetina In cambio Ti dà l'uccello Eh Però Io non c'avevo La monetina C'è Un uccello Per una monetina Oddio C'è questo strano cordone Che va per di qua Continua per di qua E ci dà un mix Sì Ho qualche rimembranza Ragazzi Di Ah Cristo Ho già paura Di ragni Ho paura Dei ragni Ma non ho paura Dei gatti Quindi io qui Dovrei avere paura Solo a metà Oppure Siccome un mostro È bruttissimo Dovrei avere paura Del doppio Non lo so Da notare Che tra l'altro Più volte Ritorna il simbolo In necrapsaria E che in ogni menu Iniziale Il pesce Dovrebbe cambiare Vagamente Ciò potrebbe essere Utile per la trama C'è il simbolo In necrapsaria Su Dietro l'arma Vabbè Un attimo ragazzi Ok Lì ci blocca La strada Ovviamente Dobbiamo andare giù Per forza Ancora più giù Ok Siamo arrivati È più grande Di quanto ricordassi E Se vai 20 porte Che cosa abbiamo Il nostro amico Mangia scarafaggi Che lo chiamiamo Questa roba qua Attrezzature scientifiche Ragazzi Un bottone Che non possiamo premere Perché Non lo so Una porta spaccata Vabbè Un vaso E Basta Questa scatola qui No È razzizia Nelle confronti Delle scatole Questo tipo qua E abbiamo Un mostro orribile Ciao Johnny Boy I ragni 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 gatto Mangiano gli uccelli Mosca Stra ovvio Ragazzi E per creare Un uccello Di un Uccello Mosca Abbiamo bisogno Di la testa Di un uccello E il corpo Di una mosca E ci dice Anche di mixarli Grazie alla Come si chiama La macchina Della mixatrice Che avevamo sopra Qui però Non ci abbiamo Nient'altro Che possa esserci utile Ah Mio dio Quanto Sono molto stanco Ragazzi Perché sono Strapieno Di recuperi Poi Sono l'ansia Di superare I corsi di recupero Se no vengo Bocciato Risco Perlomeno Di esserlo Sono andato Via in bici Vendo per fare Una roba Il dovere Che amava E ora Cristo dio Quando sono stufo Ciao amico mio Sparisci Vediamo qua che c'è Eh Johnny boy Liberami Questi giochi in inglese Sono molto utili Per imparare l'inglese Cioè Uncage Sarebbe tipo Liberami da queste Sparre Ok Andiamo avanti Andiamo avanti Di qua che c'è Usa questo Per distruggere le piante Grazie mille Abbiamo già riempito Fiero proprio Infatti veleno E qua Abbiamo già capito Che fare E qui che c'è Micro generator Vieni qua Vieni qua No Ah ecco qua Fuel Grazie amico Ora andiamo qua Tieni questo fuel Carburante E di sicuro Ha attivato qualcosa Ma non che Ah forse Le macchine di sopra In ogni caso Di qua ci sono già andati Mea culpa ragazzi Ah ok No Mi sto perdendo Mi sto perdendo Mi sto perdendo Ok Eh Johnny boy Liberami Ecco qua Grazie Tipo Strano Che i baffi Per la monetina Ora Si risale La mia sanità mentale Sta diminuendo Abbiamo soltanto Ah vero Perché dobbiamo andare A farci Dare L'uccello Da La macchina Degli uccelli Tieni la monetina Dacci l'uccello Niente Roba Che voglio vedere io Strane Inquietante Ragazzi Sto coso qui Questo braccetto marcio Qui esce da qua Che poi qui Se avete notato C'è scritto proprio Laboratorio Sarà Utile Per la trama Ragazzi Tra l'altra trama Ragazzi Quella che vi spiegherò dopo E che forse Avrete già capito Ragazzi Si tratta soltanto Di improvvisazione Cioè Perché proprio Ci possono fare Molte teorie Andrebbero bene Tutte quante Cos'era Dico cosa c'è Head Uccello Corpo Mosca Mixa Uccello mosca Vai così Tieni l'uccello mosca Sparisci dalla mia vista Ti prego Ok Ticket Biglietti Dammi un ticket 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 per Johnny Boy Grazie mille Che sono arrivato il controllore Che ci si incazza Una volta ho preso paura Perché In stazione Era pieno di poliziotti Ragazzi Che salivano in bus Dio solo sa cosa volevano Biglietto prego Ecco il ticket È il momento Di andare Johnny Boy ragazzi Siamo noi A casa Fine Della parte 4 Di qua ci dice proprio Più giochi Di Più giochi sempre fatti Da questa marca qui Che è la Play Chocolate Ragazzi Non ci tengo molto Se sono tutti quanti Così empi E qui invece Ci abbiamo il gioco Il capitolo 1 Ok Back to menu Se volete Vedervi i credits L'hanno realizzato 2-3 persone Quindi Non aspettatevi troppo E Perché qua posso Cliccarci Scusate Non ha importanza Ragazzi Ora viene su Il momento Delle spiegazioni Quindi Quindi Scrivetemi anche Se avete le proprie Delle vostre teorie Nei commenti E scrivete anche Se avete domande Da fare a me I credits Che vi risponderemo In un vlog a parte E quindi Le mie teorie Erano che Anche L'ho già vista Anche perché avevo già visto Dei gameplay Molto tempo fa Quindi non ricordo Ci sono anche teorie Cane maledetto Che si è fatta anche Alta gente Oltre a me Ma ste qui Sono proprio L'arborate Sono in parte mie Anche Nucleare Che con le radiazioni Ha distrutto Tutto quanto Ed è una teoria Forse Che nonostante È possibile Ma meno probabile Rispetto alle altre La seconda ragazzi Potete vederlo Riguardando il gameplay È che in realtà Questo qui Non sia nient'altro Che un mondo Creato da uno scienziato Perché molte persone Come la fornace E anche la donna La donna che ha perso il braccio Ma anche il tipo Con l'ombrello Avevano tutti quanti Chi sul polso Chi sul petto Nel caso della fornace Scritto Oggetto Numero O soggetto Non ricordo Mi sembrava Soggetto Numero E sotto c'era una specie Di C'era una cifra Un codice 38 27 17 Poche parole Questo Ciò fa pensare Che questi qui Non fossero soltanto Siano soltanto Gli esperimenti E che noi Johnny Boy Siamo L'unico Che è stato sottoposto A questi esperimenti Che tuttavia È rimasto È rimasto perlomeno Per la maggior parte umano Infatti Se vedete Non Di umano Non c'è niente Teste Generatrici Di energia Tutte quante Cioè Ci avete capito Ragazzi E la terza teoria Ragazzi Che è quella lì Non vedo molto probabile Ma ho elaborato Io Non so Di notte Intanto che tornavo in bici Non ricordo Solo che ho elaborato Questa teoria Che in realtà Questo qui Potrebbe essere Nient'altro Che Il subconscio Di questo ragazzo Ragazzi Cioè Bruttissimo Potrebbe essere Il subconscio Di questo ragazzo Che ha subito Questo trama Quindi In uno stile Di gioco Simile a Rule of Rose Ragazzi Gioco bello Andatevelo a vedere Da Dello youtuber Che preferite Che Non è nient'altro Che un'avventura Avventata nel suo Subconscio Comunque sia Ragazzi La trama Più avanti Si infittirà Ancora di più E qua ne sono sicuro Infatti Stanno ancora andando avanti A produrre altri Necrapsaria Sono arrivati Al quarto capitolo A finora Ma è tant'anto Che non vedo Potrebbe essere Uscito anche il quinto Comunque sia Il nostro gameplay Finisce qui E Ci si vede Al prossimo video Fateci tante domande Like Lasciate se volete A noi bastano I commenti Dove ci date supporto E ci lasciate tante domande Ciao a tutti ragazzi Ci si vede Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti